Sono Luca Bonaffini, vi aspetto sabato 27 luglio presso il Forte di Borgoforte di Virgilio non è il Fortino di Pietole, è il Forte di Borgoforte di fronte a quella che ha chiamato un RSA Villa Azzurra per intenderci ecco, io avrò il 27 luglio le mie chitarre e vi racconterò un po' di cose non ho ancora ben stabilito il repertorio, quindi tantomeno la scaletta perché ho intenzione anche di improvvisare delle cose e forse di regalarmi e quindi di regalarvi anche delle cose che non avete mai sentito edite, inedite, non importa, sarò io con le mie chitarre non so se due, non so se quattro, non so ancora nulla l'unica cosa che so è che il Forte di Borgoforte è un posto bellissimo l'arsegna si chiama Arteforte, venite, vi aspetto davvero con entusiasmo e spero che il vostro entusiasmo sia uguale grazie, vi aspetto 27 luglio, ciao